Diagnosi, cure e prevenzione, un'analisi a 360 gradi delle malattie infiammatorie croniche intestinali e non solo. Nel congresso medico ospitato al villaggio del ragazzo, esperti gastroenterologi hanno affrontato l'argomento sviluppando una particolare attenzione sui percorsi diagnostici terapeutici assistiti. Una delle nuove frontiere favorite dalla tecnologia è la chirurgia endoscopica, un'alternativa meno invasiva rispetto a quella tradizionale. La chirurgia, come viene intesa in senso parecchio invasivo, per alcune patologie può essere sostituita dall'endoscopia interventistica, quindi con un beneficio complessivo maggiore proprio per il paziente. In questo ambito assumo un'importanza straordinaria la possibilità di poter contare su una piastra endoscopica, ovvero allestire in un unico reparto tutte le console a disposizione di chi utilizza strumenti endoscopici sia per esami diagnostici sia per interventi di chirurgia. Un sogno cullato anche nella nostra ASLE, dove il reparto di gastroenterologia è diretto dalla dottoressa Marina De Matteese che nel corso dell'assemblea ha passato il testimone della presidenza della società endoscopica Ligure al dottor Andrea Parodi. Sono contenta perché passo la mano a un collega giovane come presidenza della società di endoscopia della Liguria e passo la mano a questo nuovo collega che si chiama Andrea Parodi, nuovo presidente, sarà in carica per tre anni ed è un bravissimo collega, pieno di iniziative. Lo conosco molto bene perché abbiamo lavorato per tre anni insieme a Sanremo.